...e docente all'Università degli Studi di Patoa e all'internazionale Catalunia di Barcellona. Buongiorno, professor Mazzocco. Buongiorno. Ci può dare un po' un'anteprima, una panoramica su quelle che saranno le prossime novità tecnologiche? Certo, direi che al giorno d'oggi, già presenti sul mercato, abbiamo da un punto di vista tecnologico delle grosse opportunità per i nostri pazienti. Sicuramente la radiologia digitale ci consente di esporre i nostri pazienti a delle radiazioni che sono circa un decimo rispetto a quelle che venivano utilizzate in passato. Questo ci consente di utilizzare con più frequenza questo tipo di tecniche e elaborando appunto questo tipo di file, cioè il paziente esegue una radiografia, la radiografia viene elaborata al computer e al computer noi progettiamo tutto l'intervento, ad esempio in campo implantare, di cui il paziente ha bisogno. E quindi ancora prima di avere il paziente seduto in poltrona, noi sostanzialmente andiamo ad eseguire il trattamento chirurgico di cui il paziente ha bisogno. Questo trattamento ben pianificato al computer, ad esempio, viene poi mandato in un centro speciale che, a seconda delle sistematiche, si trova in Belgio o in Spagna, che ci manda una guida ben precisa che noi possiamo utilizzare per ad esempio andare a posizionare gli impianti in bocca al nostro paziente. E con questa guida noi sostanzialmente possiamo posizionare gli impianti senza causare alcun disagio ai nostri pazienti, quindi senza andare a scollare le gengive, senza dover andare a dare dei punti dopo. Ed inoltre, avendo tutte le informazioni prima ancora che il paziente arrivi, noi possiamo costruire un provvisorio che, appena inseriti gli impianti, possiamo andare a inserire la bocca al nostro paziente. E quindi i pazienti che magari hanno avuto una dentiera per 10-15 anni possono passare ad una protesi fissa immediatamente, praticamente, nel giro di poche ore. Professor Mazzocco, queste nuove tecnologie si traducono in costi minori o no? Beh, diciamo che riducendo di molto quelli che sono i tempi alla poltrona per i nostri pazienti, sicuramente i costi si possono ridurre in questo punto di vista, perché ovviamente trattamenti che prima necessitavano magari di diverse ore sulla poltrona e di numerosi appuntamenti, eseguiti in un tempo più ridotto, ci consentono a noi di ridurre anche ovviamente i costi della procedura per i nostri pazienti. Quindi, sotto un certo punto di vista, sì, aumentiamo la qualità e cerchiamo di ridurre i costi per cercare di venire il più incontro possibile a quelle che sono le esigenze dei nostri pazienti. Queste tecnologie sono applicabili a tutti i pazienti o in alcuni casi non è possibile? Diciamo che fino a qualche anno fa, ad esempio, io mi occupo di chirurgia e di implantologia e quindi mi limiterei a questo, sicuramente una volta non tutti i pazienti potevano ricevere degli impianti dentali. La mancanza di osso, quindi pazienti che magari hanno portato dentiere per un lungo periodo e che hanno una grossa atrofia, quindi l'osso sia molto riassorbito, non erano pazienti che erano sostanzialmente elegibili per un trattamento di natura implantare. Al giorno d'oggi, e questo secondo me è un campo molto affascinante della nostra professione, abbiamo delle tecniche che ci consentono di rigenerare l'osso mancante, delle tecniche convenzionali, ormai non è più necessario eseguire, a meno che non si tratti di casi eccezionali e rarissimi, grossi prelievi dall'anca o dalla testa dei nostri pazienti, possiamo usare semplicemente un osso che ci arriva in bottiglietta e con delle tecniche di rigenerazione dell'osso possiamo eseguire e possiamo rigenerare l'osso dove questo manca. Ed inoltre in questo periodo, soprattutto queste sono le cose più recenti e credo che a breve saranno anche distribuite in Italia, avremo la possibilità di utilizzare dei fattori di crescita che altro non fanno che accelerare e rendere ulteriormente più predicibile queste tecniche di rigenerazione, dando quindi la possibilità anche a tutti quei pazienti che non hanno o che hanno perso purtroppo la quantità di osso sufficiente per posizionare gli impianti, la possibilità di eliminare protesi totali o protesi removibili parziali e poter essere trattati con degli impianti dentali per ottenere una dentatura fissa. Grazie professor Mazzocco, docente all'Università degli Studi di Padova e all'Internazionale Cataluña, grazie per essere stato con noi. A questo punto siamo in chiusura.